Ciao a tutti, sono Giuseppe Contorno, sindaco di Revigliasco d'Asti. Anch'io aderisco all'iniziativa di Asti.gov, io resto a casa. Mi raccomando, restate a casa anche a voi, è veramente importante per tutti. E se proprio dovete uscire, mantenete le distanze di sicurezza e seguite le istruzioni che vi sono state impartite in questi ultimi giorni. È importante essere informati, quindi seguite soltanto fonti ufficiali, quindi il sito della Regione Piemonte, il sito della provincia di Asti, il sito di Asti.gov, il sito del vostro comune e scaricate sul vostro cellulare l'applicazione Municipium. Perché noi siamo sicuri che andrà tutto bene!